Applausi a scena aperta per l'anteprima nazionale dello spettacolo Prodigi, andati in scena sabato sera al Teatro Ronconi di Gubbio. Frutto di un lungo lavoro di preparazione e realizzato per essere scenato nel panorama nazionale, come rivelato ai nostri microfoni dal produttore Gubbino e ormai affermato attore italiano Fabio Vagnarelli, lo show ha visto sul palco l'istronico Vanni De Luca. E ieri il successo è stato bissato a Milano con la prima ufficiale al Teatro Manzoni, ma l'anteprima di Gubbio è stata di ottimo auspicio. Il tutto è stato reso possibile anche grazie al contributo dato dalla famiglia dei Sant'Antoniari, dall'associazione Gubbio Soccorso con il patrocinio del Comune di Gubbio e dalla collaborazione IUJI, servizio per lo spettacolo di Luca Berettoni. La rappresentazione ha visto la partecipazione di un numerosissimo pubblico, la cui attenzione è stata completamente catturata da illusionismi di altissimo livello, grazie all'indiscussa bravura del protagonista Vanni De Luca, capace prestigiatore e famoso mentalista, e dal suo collaboratore Tiziano Grigioni, anche egli valente illusionista e presente insieme a lui sul palcoscenico. Il mentalismo è la capacità di avvalersi di proprie particolari doti della mente, affinate i studi ed esercizi durati anni, per far balenare davanti al pubblico fenomeni prodigiosi come specifiche abilità di calcolo e letture della mente. È così che proprio durante lo spettacolo di sabato il protagonista Vanni ha incantato il pubblico con dei veri prodigi, come la mossa del cavallo, realizzata ad occhi rigorosamente bendati, la memorizzazione del giorno esatto della settimana, di un giorno qualsiasi e di un qualunque anno, dal 1582 ad oggi, la risoluzione simultanea del cubo di Rubik, un quadrato magico con la cifra di partenza indicata da uno spettatore in maniera del tutto improvvisata, e la declamazione delle terzine della Divina Commedia, partendo da un verso qualsiasi indicato da un assante, anche questo senza nessun accordo preliminare. De Luca ha poi scritto un testo mirabile, insieme a due dei cinque componenti del gruppo Oblivion, Fabio Agnarelli e Davide Calabrese, il quale è anche curato la regia del suddetto spettacolo. Il presidente dei Sant'Antoniari, Alfredo Minelli, si è detto molto soddisfatto della riuscita dell'evento, che oltre a non aver deluso nessuna aspettativa, ha anche portato ad un ottimo ricavato, che è stato devoluto in beneficenza alla stessa Gubbio Soccorso e alla famiglia dei Sant'Antoniari, che a sua volta lo utilizzerà per fondi di solidarietà. Dopo le prime due serate al Manzoni di Milano, lo spettacolo Prodigi andrà in scena a metà febbraio, anche al Teatro Colosseo di Torino.